Musica In studio Veronica Puglisi Ancora buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione sciopero nazionale dei lavoratori del servizio di igiene ambientale, gas, acqua e energia per contestare la modifica dell'articolo 177 del codice degli appalti che obbliga le aziende concessionarie ad esternalizzare l'80% dei servizi Si pone il problema del futuro occupazionale dei dipendenti e della sicurezza Partiamo dalla protesta a Ragusa Viviana Sammito La modifica dell'articolo 177 del codice degli appalti ha scatenato uno sciopero a livello nazionale del settore dei trasporti acqua, gas e dei servizi dell'ingiene ambientale perché con quella modifica stabilita dal governo nazionale tutte le ditte che hanno in concessione all'appalto devono esternalizzare l'80% dei servizi è una bomba, loro così l'hanno definita i sindacati e i lavoratori presenti in piazza poste a Ragusa che hanno espresso il loro malcontento Il nostro segretario generale ha definito l'applicazione di questo articolo una bomba atomica sull'Italia e nessuno si sta rendendo conto di questa cosa Cosa c'è dietro a questo disegno di modifica degli appalti secondo voi? Non lo sappiamo ma sicuramente dietro ci sono degli affari che diciamo in maniera sommersa potrebbero andare avanti ma che non avvantaggiano nessuno forse solo qualcuno l'amico dell'amico le attività che noi svolgiamo sono estremamente pericolose e appaltate in maniera selvaggia così come si pensa e quindi consegnate nelle mani di imprese che non hanno mai consolidato professionalità e competenze in questo settore significa a mio avviso addirittura avere dei morti e delle persone sulla coscienza è pericolosissimo La nostra preoccupazione sarebbe per la perdita dei posti di lavoro perché questa norma prevede esternalizzare i servizi e un'azienda cosa se ne fa di tutti questi operai li manda a casa I sindacati chiedono immediatamente la revoca di questa modifica per garantire il futuro occupazionale e la sicurezza in questi ambienti di lavoro Si perderebbe dell'occupazione a livello locale ma l'aspetto più importante in un momento in cui noi stiamo facendo una battaglia per la sicurezza è quello che questi lavori esternalizzati non riuscirebbero a garantire la sicurezza che invece i lavoratori interni con la loro professionalità garantirebbero A livello nazionale già i nostri leader già hanno depositato in Senato e alla Camera questa cancellazione con le dovute proposte su questo punto non solo ma alcuni parlamentari sono impegnati a fare in modo che questa cosa venisse o cancellata o modificata e noi siamo fiduciosi che nei prossimi giorni qualche cosa, qualche spiraglio si apra Anche i lavoratori di Catania e provincia hanno aderito allo sciopero generale del comparto igiene ambientale organizzato dalle tre sigle sindacali della provincia etnea FP, CGL, Fit, Cisle, Will e Trasporti chiedono a nome dei lavoratori dei settori elettricità, gas, acqua e servizi di igiene ambientale la cancellazione dell'articolo 177 del codice degli appalti la cui applicazione obbligherà i concessionari a esternalizzare l'80% di tutte le attività anche quando queste vengono svolte da personale interno Consegniamo al prefetto di Catania un documento dove esterniamo proprio queste forti preoccupazioni sia ai governi regionali che al governo nazionale perché questo venga ripreso e venga immediatamente rivisto Il rischio secondo le organizzazioni sindacali è il grande pericolo della desertificazione e destrutturazione di servizi essenziali della perdita di migliaia di posti di lavoro della destrutturazione dei contratti nazionali l'esternalizzazione causerebbe una riduzione della forza lavoro tra l'80 e il 95% L'articolo 177 mette a rischio da 150.000 a 170.000 posti di lavoro in tutto il comparto in Italia In Sicilia metterebbe a rischio almeno 30.000 posti di lavoro Il riflesso sul territorio italiano nazionale su tutto il territorio nazionale sarebbe disastroso perché verrebbero a mancare tutti i presupposti per una corretta distribuzione e gestione dell'energia elettrica per quanto riguarda investimenti, guasti, gestione del corrente Parliamo di un'altra protesta quella degli operatori sanitari impiegati durante l'emergenza della pandemia Covid-19 molti di loro sono precari e non tenuti in considerazione difficoltà denunciate questa mattina nel corso di un sit-in in piazza Università a Catania Denunciano le pessime condizioni di lavoro sono gli operatori sanitari della provincia di Catania questa mattina sit-in in piazza Università organizzato dalla FIAS Catania per gridare no al precariato la FIAS spiega che tutti gli operatori impegnati in questo anno e mezzo tra vaccini e tamponi ad oggi non hanno ricevuto un centesimo I precari non si abbandonano sono stati utilizzati in un momento drammatico durante la pandemia e oggi non si può usare il termine use e getta secondo il contratto collettivo nostro è caduto nel dimenticatoio terzo tutti gli operatori della sanità da un anno e mezzo impiegati per fare vaccini e tamponi non hanno ricevuto fino a questo momento un centesimo un'unica voce sindacati e lavoratori nella speranza che le istituzioni comprendano i sacrifici che hanno fatto tutti questi operatori che solo un alto senso etico li ha portati ad essere a contatto dei cittadini gli accordi erano le prestazioni aggiuntive con queste prestazioni aggiuntive gli infermieri avevano avuto definiamolo così la liberatoria cioè quello che i medici invece contrattualmente hanno sempre ottenuto potevano effettuare questa attività fuori dall'orario di lavoro fuori dai turni e si sono dedicati come ho detto poc'anzi in anima e corpo ai cittadini sulle difficoltà del personale della sanità è intervenuto anche il segretario della CISL FP Etnea Danilo Sottile che ha chiesto di garantire il diritto al lavoro scrivendo una lettera anche inviata ai direttori generali dell'ASP e delle aziende sanitarie della provincia di Catania nella lettera Sottile chiede di includere nei nuovi bandi di selezione i meccanismi di premio per chi ha lavorato durante l'emergenza causata dalla pandemia ma chiede anche di superare le contrapposizioni tra precari e chi deve ancora entrare nel sistema sanitario regionale una guerra tra poveri che va superata dice ancora Sottile la tutela dei precari non esclude la cura degli interessi degli altri lavoratori della sanità chiediamo questo di essere riconosciuti noi come professioni sanitari e tutti i colleghi infermieri tutte le altre categorie che stanno partecipando qui insieme a noi alla fine per un bene della sanità per la collettività per tutti non abbiamo nessuna tutela anche dal punto di vista economico ci sentiamo umiliati usati perché siamo dimenticati non esistiamo noi per il mondo della sanità essere garantita l'apertura delle guardie mediche turistiche nel territorio ibleo perché a fronte di una richiesta di 40 medici se ne sono presentati solo 4 e hanno chiesto di essere impiegati a Marina di Modica domani infatti la guardia medica sarà aperta dalle 8 alle 20 il direttore generale dell'ASP 7 di Ragusa Angelo Alicuo ha chiesto a medici e infermieri anche attraverso le nostre telecamere di rendersi disponibili le guardie mediche turistiche nel territorio ibleo rischiano di non aprire per la stagione estiva a causa della carenza dei medici su 40 professionisti solo 7 si sono presentati ma 3 hanno fatto un passo indietro e 4 hanno invece fatto un patto a Marina di Modica o non se ne fa nulla questi 4 medici infatti da domani prenderanno servizio nell'unica guardia medica turistica operativa fino ad adesso che è quella di Marina di Modica aperta dalle 8 alle 20 fino al 15 settembre con un'ambulanza del 118 in dotazione nei locali dell'auditorium Nannino Ragusa che rimane senza guardia medica turistica e casuzze Punta Secca Marina di Acate e Santa Mena del Focallo in quest'ultimo caso la polemica è stata sollevata dall'ex sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie che ricorda che negli altri anni il servizio è stato sempre garantito ma quest'anno non ci sono medici né infermieri però il direttore generale dell'ASP 7 di Ragusa Angelo Aliquo ha pensato di coinvolgere neolaureati le altre ASP anche quelle delle altre regioni e fino a anche qualche medico dell'USCA ma in questo caso l'azienda sanitaria deve essere autorizzata dal presidente della regione stiamo continuando a cercare medici ma se non ci sono non le possiamo aprire nel frattempo noi abbiamo iniziato anche un reclutamento per gli infermieri in modo da fare anziché delle guardie mediche degli ambulatori infermieristici in realtà molte quasi tutti le prestazioni fatte dalle guardie mediche l'anno scorso sono prestazioni che gli infermieri possono garantire perché sono interventi per scottature per punture di insetto per meduse poi garantiremo comunque le ambulanze private che presteranno servizio anche dove fosse necessario dove ci sono gli ambulatori infermieristici stiamo cercando di reclutare il personale ma purtroppo non lo troviamo non lo troviamo perché è impegnato nelle usca perché decide di non volere venire quindi è un problema grave che non possiamo fare miracoli non ne possiamo fare quindi cercheremo di garantire il più possibile la copertura dei servizi mi preoccupa perché anche perché poi ci sarà un maggior afflusso nei pronto soccorsi ancora noi abbiamo circa 250 positivi le usca ci servono per il tracciamento e per i tamponi nei positivi o nei possibili positivi per cui dobbiamo capire bene che non possiamo scoprire dei servizi per darne altri quindi da qualche parte dobbiamo dobbiamo tirarla questa coperta quindi ovvio che se le usca dovessimo riuscire a portarle a tre avremmo a disposizione 15 medici almeno a cui chiedere se vogliono fare la guardia medica non possiamo costringere nessuno ovviamente la guardia medica tuttavia è garantita nella stagione invernale con personale ambulanza a Pozzallo Scoglitte e Marina di Ragusa abbiamo cercato di aprire la seconda in ordine quella di Marina di Ragusa speriamo di riuscire a trovare qualche altro medico e aprire Marina di Ragusa poi ci sarebbe Marina di Acate questi li stiamo mettendo in ordine relativamente alle prestazioni effettuate l'anno scorso stiamo cercando di coinvolgere anche medici di altre regioni se vogliono venire qui a fare questo lavoro siamo ben felici di accoglierli e di farli lavorare in un posto dove poi magari possono trovare nei momenti di libertà uno svago sicuramente di livello superiore rispetto a tante altre parti d'Italia Servizio Civile Universale in Sicilia Asso Onlus scrive all'assessore regionale Scavone segnalando l'esclusione dalla graduatoria di oltre 100 candidati con solo 24 persone risultate idonee impossibile far partire i progetti spiega ai nostri microfoni il presidente di Asso Paolo Santoro oltre 100 ragazzi siciliani non ammessi al servizio civile per un errore di sistema è quanto denuncia Paolo Santoro presidente responsabile del servizio civile dell'Asso Onlus in una mail indirizzata all'assessore regionale Scavone condivisa con la stampa Paolo Santoro dichiara di essere venuta a conoscenza del fatto che su circa 200 posizioni di giovani che entro il 17 febbraio scorso hanno presentato domanda per il servizio civile universale per la misura garanzia giovane asse 1 bis sono stati esclusi perché non risultano presi in carico ovvero non risultano disoccupati una mail che ha ricevuto prontamente risposta ieri dal dipartimento regionale del lavoro in una mail a firma dell'ingegner Gaetano Sciacca si riprende la parte relativa ai requisiti per partecipare al bando in particolare che per partecipare all'asse 1 bis è sufficiente la presa in carico da parte dei centri per l'impiego e non l'iscrizione sulla piattaforma garanzia giovani questo però provoca forte preoccupazione e rabbia nei ragazzi per l'impossibilità di ripartire disagi anche per gli enti organizzatori tra questi anche comuni della provincia eblea probabilmente ci sarà un ulteriore rinvio per l'avvio che era previsto domani perché io non posso fare partire 8 progetti che prevedono 120 ragazzi con 25 c'è rinuncio anche a questi il presidente dell'Assod Onlus per spiegare quale potrebbe essere la radice del problema fa riferimento a un comunicato del 18 giugno scorso pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sul sito governativo come spiega Paolo Santoro dal lato ci sono assessorato il centro per l'impiego che dicono di aver fatto la propria parte ma dall'altro l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile rivolgendosi a Lampal per sapere se ci sono presi in carico ha una risposta negativa perché ancora il sistema non è pienamente operativo Santoro auspica che i vertici trovino un punto di incontro e che se serve del tempo si rimandi l'avvio del Servizio Civile E' certamente inaccettabile dire ai ragazzi guardate presentatemi i documenti io vi ammetto con riserva e entro due mesi voi vi dovete portare sempre il patto di servizio su garanzia giovane e dopo due mesi se ancora il sistema non funziona che facciamo mandiamo i ragazzi a casa senza nessun compenso ecco la preoccupazione maggiore Anche in provincia di Ragusa da oggi sarà sospesa l'operazione col cashback con il pagamento delle somme accumulate con i pagamenti delle carte di debito e credito e con il superpremio da 1500 euro maggiori utilizzatori una decisione che evidenzia tutta una serie di criticità così come a suo tempo ha detto ConfCommerce Da oggi cashback sospeso anche in provincia di Ragusa per ConfCommerce che qualcosa non andasse per il verso giusto era già stato segnalato dai primi momenti in cui l'operazione è stata varata sono stati davvero pochi anche nella provincia eblea quelli che hanno utilizzato il cashback Ci aggiriamo dice il presidente ConfCommercio Sicilia Gianluca Manenti intorno al 10-15% e questo nei momenti in cui sembrava che l'operazione potesse in qualche modo decollare la tendenza prevalente dice è stata sempre quella di non fare ricorso a tale sistema che per gli operatori commerciali ha anche rappresentato una sorta di peso piuttosto che un reale incentivo così come avrebbe dovuto essere è necessario che si apra una riflessione approfondita sulle problematiche che abbiamo segnalato a partire dalla considerazione della Banca Centrale Europea sulla necessità di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili fino ad arrivare alla considerazione circa i possibili effetti spereguativi tra redditi e l'effettivo impulso diciamo ai consumi l'impulso alla diffusione della moneta elettronica andrebbe perseguito abbattendo costi e anche le commissioni a carico dei consumatori e anche dei titolari esercenti andiamo alla cronaca beni per circa 7,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania ad Antonio Paladino presidente dell'associazione Confime d'Italia Massimiliano Longo Dominus dello studio FLA secondo la procura di Catania i due avrebbero promosso e organizzato un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari che annoverava tra i partecipi professionisti e legali rappresentanti di società aventi sede in tutto il territorio nazionale beni per circa 7,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania due rappresentanti rispettivamente dell'associazione Confime d'Italia e Dominus dello studio FLA secondo la procura di Catania i due avrebbero promosso e organizzato un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari che annoverava tra i partecipi professionisti e legali rappresentanti di società aventi sede in tutto il territorio nazionale i sequestri riguardanti abitazioni negozi magazzini fondi rustici terreni agricoli e un'autovettura di lusso sono stati eseguiti in Lombardia Lazio e Sicilia e in cinque province Brescia Roma Catania Ragusa e Siracusa i due sottolinano gli inquirenti commercializzavano modelli di evasione fiscale in base ai quali effettivi debiti tributari sono stati compensati con inesistenti crediti erariali per 9,5 milioni di euro i due secondo le indagini avrebbero strumentalizzato la possibilità date ai contribuenti di portare a compensazione dei propri debiti nei confronti dell'amministrazione finanziaria crediti relativi alla medesima tipologia di imposta maturati o maturandi in relazione a un diverso periodo l'associazione si adoperava per consentire alle società o ai professionisti debitori dell'amministrazione finanziaria di effettuare l'acquisto mediante accollo di crediti vantati da parte di altre società nei confronti della medesima amministrazione ma derivanti da operazioni in tutto o in parte inesistenti verso il pagamento di una somma inferiore al loro valore nominale in modo da consentire all'acquirente di compensare in tutto e in parte il proprio debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria la somma pagata dalla società acquirente per il credito fittizio rappresentava in tutto o in parte il guadagno dell'associazione per delinquere i due sono accusati di indebita compensazione di debiti tributari nonché di truffa nei confronti degli imprenditori che avevano acquistato i crediti ignari della loro inesistenza e che per questa ragione sono stati costretti a corrispondere il dovuto all'erario dopo aver versato ingenti somme di denaro all'organizzazione parliamo parliamo della situazione rifiuti in provincia di ragusa non è stata ancora bonificata la discarica a cielo aperto al confine tramodica e ragusa di competenza di ANAS fa ancora bella mostra di sé la discarica a cielo aperto al confine tramodica e ragusa segno distintivo dell'inciviltà e della quale si attende che ANAS ente competente in questo caso intervenga nel più breve tempo possibile stando a quanto detto dal sindaco di ragusa Peppe Cassino nonostante le sollecitazioni ad intervenire non c'è stata nessuna risposta il primo cittadino ha dichiarato che se l'intervento non sarà effettuato in breve tempo sarà costretto ad emanare un provvedimento d'urgenza anticipando i costi somme notevoli che saranno addebitate ad ANAS un'emergenza dal punto di vista igienico-sanitario segnale di incuria e da parte dei cittadini di mancanza di rispetto nei confronti del proprio territorio abbiamo contattato anche noi l'ufficio stampa dell'ANAS e siamo in attesa di risposte intanto il sindaco Peppe Cassin in qualità di presidente dell'SRR Atosette attende di ricevere comunicazione da parte dei sindaci di Modica Ispica Pozzale Acate sulla richiesta di incontro con tutti gli amministratori della provincia eblea e la sovrintendenza di Ragusa sul tema dell'individuazione del nuovo sito per il conferimento del rifiuto biostabilizzato in un'area individuata al confine tra Modica e Ispica non ho avuto modo di acquisire l'adesione del comune di Vittoria d'accordo con la necessità di una riunione più ampia con tutti gli enti della provincia eblea ha dichiarato il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini che sta predisponendo la richiesta di incontro provvederò poi subito ad inviare tale richiesta all'SRR Ci fermiamo c'è una pausa pubblicitaria tra poco Seconda parte del nostro telegiornale si sono concluse le celebrazioni in onore di San Pietro e San Paolo a Modica ieri sera la solenne celebrazione eucaristica nella Chiesa Madre di San Pietro Una sobria cerimonia per il rispetto delle misure anti-covid ha omaggiato ieri San Pietro e San Paolo a Modica dove durante tutta la giornata si sono succedute le celebrazioni in onore dei due Santi ieri sera la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Angelo Giordanella vicario generale della Diocesi alla presenza delle autorità civili e militari della città una celebrazione alla quale non è mancata la presenza dei fedeli che hanno preso parte alla funzione e alla benedizione della nuova statua di San Pietro e il paralitico copia del capolavoro di Benedetto Civiletti del 1893 momenti suggestivi quelli che si sono succeduti all'interno della Chiesa prima la benedizione con la reliquia del Santo Patrono e poi la presentazione della statua alla città portata a spalla fino all'ingresso principale un augurio speciale ha sottolineato padre Antonello Abbate parroco della Chiesa di San Pietro che sia di buon auspicio per il prossimo anno quest'anno c'è stata una grande novità come avete visto cioè finalmente abbiamo fatto una copia di questa famosa statua del Civiletti perché questa statua è una statua molto preziosa ma anche molto pesante da gestire durante la processione quindi più volte si è rischiato anche che si potesse cadere facendo un danno innanzitutto alle persone ma poi regando un danno anche un'opera veramente grandiosa per cui quest'anno abbiamo inaugurato la statua che servirà per la processione dell'anno prossimo quindi ci auguriamo questo è un buon auspicio ci auguriamo che possiamo riprendere anche con queste manifestazioni esterne della festa Padre Antonello Abbate ha tracciato un bilancio delle celebrazioni di quest'anno Credo che il conteggio che possiamo fare è un conteggio comunque di serenità di festa di desiderio insomma di ricominciare di riprendere con quella vita che è anche la vita cittadina e quindi io credo che sia andata molto bene Si sono celebrate diverse messe anche nei quartieri vicino San Pietro come hanno accolto i fedeli queste iniziative? Ma quest'anno abbiamo pensato come sempre ormai è una tradizione cioè durante la festa si celebrano delle messe nei quartieri per raggiungere e mettere anche in atto quello che Papa Francesco suggerisce cioè quello di essere chiese in uscita quindi di raggiungere i luoghi dove la gente vive quest'anno proprio dal punto di vista anche simbolico abbiamo fatto abbiamo celebrato la messa in un quartiere molto particolare che era l'atrio comunale perché simbolicamente volevamo che San Pietro raggiungesse tutta la città presentata ieri a Catania l'iniziativa ricicla e viaggia aiutare l'ambiente a consentire ai cittadini catanesi di risparmiare ottenendo gratuitamente biglietti di viaggio da utilizzare sui mezzi AMT in cambio della consegna di bottiglie in plastica questo è l'obiettivo dell'iniziativa ricicla e viaggia promossa dall'azienda metropolitana trasporti di Catania sostenuta dall'amministrazione polliese e realizzata in virtù di un impegno lavoro di squadra con il consorzio volontario per il riciclo del PET l'impresa di raccolta rifiuti d'asti e l'innovativa app MyCicero è un bellissimo progetto è dichiarato il sindaco pugliese Catania e la seconda città d'Italia ad averlo realizzato ogni bottiglia darà diritto a un credito per poi ottenere dei biglietti da utilizzare all'interno del sistema della mobilità della nostra città quindi un progetto innovativo semplice da utilizzare che permette di rispettare l'ambiente il nuovo servizio coniuga ambiente e mobilità con un'opera di economia circolare ha spiegato il presidente di AMT Giacomo Bellavia da parte dell'azienda dei trasporti c'è un contributo in termini proprio di credito che noi daremo a tutti i cittadini per avere dei biglietti degli abbonamenti gratuiti quindi ecco spieghiamo che in tanti conferiscono la bottiglia perché da un lato faranno una favore all'ambiente e dall'altro avranno un vantaggio cioè quello di poter viaggiare gratis sui mezzi è un esempio virtuoso di cooperazione finalizzata ad incentivare il riciclo della plastica e rispettare l'ambiente viaggiando gratis siamo felici di aver partecipato al progetto ha commentato il direttore commerciale di Maicicero Mascino il consorzio Coripetta ha installato la prima delle sei macchine che saranno presenti a Catania raccomando a tutti di non schiacciare le bottiglie ma di allentarne il tappo e di lasciare sempre l'etichetta indispensabile per identificare il codice a barra del prodotto se è vero che c'è qualcuno che ancora oggi fa l'incivile che ancora oggi non rispetta le regole ce ne sono tantissimi che negli ultimi anni hanno riscoperto il piacere di tenere guida la città e che dedicano le loro mezze giornate il sabato la domenica ripulire parti di città lasciate in condizioni pietose da chi ancora oggi appunto non rispetta le regole siamo felici di essere partner di questo progetto di economia circolare ha sottolineato l'amministratore della DASI Rossella Pezzino De Geronimo insegnerà la popolazione a non buttare via le bottiglie ma a riciclarle nel vero senso della parola ottenendo in cambio comunque un biglietto dell'autobus quindi c'è comunque una convenienza per il cittadino però nello stesso tempo stiamo lavorando in sinergia proprio per questo progetto nasce proprio per sensibilizzare diciamo i cittadini sull'economia circolare le bottiglie verranno quindi compattate e ritirate dall'azienda DASI da tutti i sei punti del capoluogo etneo una volta condotta nell'impianto di raccolta la plastica sarà prelevata a cura del CoriPet per consegnarla ad uno dei quattro riciclatori presenti in Italia e autorizzati a livello europeo alla produzione del PET la tipologia di plastica da riciclo ad uso alimentare a questo punto verranno riprodotte nuove bottiglie con PET da riciclo di provenienza italiana riducendo al minimo l'importazione da altri paesi stranieri aiutare aiutare l'associazione misericordia di Librino dopo il furto perpetrato ai danni della sede lo scorso 7 giugno uno spettacolo di beneficenza è stato organizzato per questa sera alle 21 all'istituto Ardizione Gioeni di Catania hashtag 10 passi avanti artisti uniti per Librino è lo spettacolo di beneficenza che si darà questa sera alle 21 presso l'istituto Ardizione Gioeni di Catania i cui fondi andranno devoluti all'associazione misericorde di Librino vittima del grave furto dello scorso 7 giugno l'iniziativa è stata ideata da Dimis e presentata in conferenza stampa alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale alle politiche sociali della famiglia Antonio Scavone una stupenda cornice che rivive che rivive attraverso le sue azioni di promozione nei confronti di diversamente abili una grande storia alle spalle di questo istituto ma diventa una cornice moderna che accoglie e che rilancia il messaggio culturale che questa città può dare presente alla conferenza stampa anche Santo Carnazzo presidente onorario della misericordia di Librino la cosa più importante ha detto è continuare in un ruolo di sensibilizzazione alla risoluzione dei problemi di un quartiere che poi è una città ringrazio Dimis per l'impegno e al commissario Panvini per l'ospitalità e tutti gli artisti ha detto Carnazzo è una piacevolissima sorpresa che abbiamo ricevuto come misericordia di Librino avere il sostegno di così tanti artisti e qualificati nel contribuire in maniera significativa non solo all'esistenza della misericordia ma a dare una sensibilizzazione rispetto a quelli che sono i problemi che possono vivere una parte importante della città di Catania degli abitanti della città di Catania saranno una decina trattori e performer gli artisti che si alterneranno sul palco e che presteranno la loro arte in maniera totalmente gratuita a presentare l'evento saranno l'ideatore della serata di beneficenza Dimitri Tosi in arte Dimis e la modella indossatrice Silvia Bella il mio grazie afferma Dimis va innanzitutto all'assessore Scavone al commissario Panvini per aver subito sposato l'iniziativa consentendoci l'uso della location va a tutti i colleghi che senza esitazione si sono messi a disposizione a tutti coloro che venendo alla serata contribuiranno alla causa all'ingresso dell'istituto conclude Dimis troverete i volontari della misericordia cui potrete versare il vostro libero contributo e con questo servizio è tutto grazie per la vostra attenzione buon proseguimento di giornata grazie per la visione grazie per la visione